Prima in Italia per qualità dei servizi ed efficienza del sistema sanitario regionale. Per il secondo anno consecutivo la Regione Marche si confirma la prima Regione Benchmark scelta dal Governo come Regione di riferimento per la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Non posso che ringraziare gli uomini e le donne, spiega il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, che ogni giorno hanno lavorato e lavorano nella sanità marchigiana e che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato per le Marche per il secondo anno consecutivo. Sappiamo, ha aggiunto il Presidente, quanto ci sia ancora da fare per corrispondere alle esigenze e alle istanze dei cittadini. Per questo il risultato raggiunto è uno stimolo a fare sempre meglio, consapevoli dei tanti sacrifici che sono ogni giorno chiamati a fare tutti coloro che operano in sanità, soprattutto in un momento di grande difficoltà per la nostra comunità colpita dagli eventi sismici e che hanno visto il sistema sanitario regionale in prima linea per sostenere le popolazioni. La valutazione che ha visto la nostra Regione primeggiare avviene attraverso una serie di indicatori relativi, sia alla qualità assistenziale che della spesa. Tra i 19 indicatori sono stati considerati il punteggio della griglia dei livelli essenziali di assistenza, i risultati di esercizio valutati dal tavolo degli adempimenti relativi al 2013, l'adegenza media pre-operatoria, la spesa farmaceutica pro capite e il costo medio dei ricoveri.